In questa seconda video lezione impareremo le generalità sul procedimento unico SUAPE e le modalità di presentazione della pratica. La legge prevede che il SUAPE è l'interlocutore unico del privato per l'espletamento di tutti gli adempimenti ricadenti nella propria competenza. Questo significa che il privato non deve più rivolgersi separatamente a tanti uffici e amministrazioni pubbliche diverse per ottenere tanti titoli abilitativi distinti ma è sufficiente che si rivolga al SUAPE il quale poi si preoccupa di inoltrare la documentazione a tutti gli uffici e gli enti competenti e a coordinare tutte le attività istruttorie per l'acquisizione di un titolo abilitativo unico. Questo principio comporta ad esempio che tutte le comunicazioni tra le varie pubbliche amministrazioni coinvolte e il privato siano effettuate per il tramite dell'ufficio SUAPE competente per il territorio. Questo significa ad esempio che anche per richiedere integrazioni, per trasmettere pareri, per trasmettere titoli abilitativi il passaggio è sempre attraverso il SUAPE. Il cittadino inoltre ha la documentazione al SUAPE che è là inoltre agli uffici competenti e gli uffici competenti a loro volta trasmettono ogni comunicazione all'interessato sempre per il tramite del SUAPE, comprese richieste di integrazioni, prescrizioni e simili come vedremo. Le altre amministrazioni coinvolte nel procedimento, dice la norma, non possono in alcun caso trasmettere direttamente all'interessato atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso anche se a contenuto negativo. Unica eccezione a questo principio sono i provvedimenti prescrittivi e interdittivi adottati nell'ambito del procedimento in autocertificazione come vedremo nell'apposita video lezione. Ancora le amministrazioni pubbliche devono dichiarare l'irricevibilità delle pratiche a loro eventualmente presentate direttamente dal privato se rientranti nella competenza del SUAPE e devono invitare l'interessato a trasmettere la pratica per il tramite del SUAPE. Quando le attività che siano esse edilizie o che siano produttive insistono nel territorio di riferimento di più di un SUAPE non è necessario presentare tante pratiche quanti sono i comuni o comunque i SUAPE interessati, è sufficiente inoltrare una sola pratica nel SUAPE competente sul territorio nel quale è ubicata la porzione più rilevante dell'impianto o dell'intervento. Quando l'intervento è ubicato su più territori e non c'è una porzione più rilevante chiaramente individuabile, è sufficiente inoltrare la pratica a uno o qualsiasi dei SUAPE interessati. Il SUAPE ricevente dovrà inoltrare la pratica oltre che agli enti terzi riferiti al proprio territorio anche agli enti terzi riferiti al territorio di tutti i comuni nei quali l'intervento è ubicato. Per far questo una volta entrati nel dettaglio della pratica sul menu gestione è sufficiente selezionare altri comuni e aggiungere manualmente tutti i comuni nei quali l'intervento si situa oltre a quello ovviamente del SUAPE ricevente. In questo modo il sistema associerà automaticamente tutti gli enti terzi competenti per il territorio degli ulteriori comuni selezionati nel dettaglio della pratica. Per le attività delocalizzate e prive di impianto stabile come tutte le attività che si svolgono ad esempio in forma itinerante, l'interessato può trasmettere la pratica al SUAPE del territorio in cui la ditta ha la sede legale oppure nel SUAPE del territorio dove si intende avviare o svolgere l'attività. Un'altra caratteristica del procedimento SUAPE è l'unicità del titolo abilitativo. Presso il SUAPE si acquisisce un titolo abilitativo unico e onnicomprensivo che ricomprende e sostituisce tutti gli atti abilitativi e di assenso previsti dalle singole normative settoriali e necessari per la realizzazione dell'intervento privato. Questo significa che il privato che si rivolge al SUAPE acquisirà contemporaneamente e contestualmente in un'unica pratica tutti i titoli abilitativi che le singole norme impongono per la realizzazione di quella che è la propria iniziativa e non dovrà quindi preoccuparsi di avere poi ulteriori passaggi e adempimenti amministrativi da espletare presso altri enti e altri soggetti. In quest'ottica il procedimento SUAPE è rovesciato rispetto al procedimento amministrativo classico. Nel procedimento amministrativo classico l'adempimento amministrativo e quindi l'acquisizione del titolo sta al centro della costruzione del procedimento stesso, nel senso che il procedimento nasce, si sviluppa e si conclude attorno a uno specifico titolo abilitativo. Il procedimento unico SUAPE invece si costruisce attorno a quella che è l'iniziativa che il privato vuole porre in essere, quindi parte da un esame di quello che è l'obiettivo finale, vedete cosa vuoi fare, quello che l'interessato vuole realizzare, costruire un immobile, avviare una determinata tipologia di attività e dall'obiettivo finale dell'interessato ricava a ritroso tutti quelli che sono gli adempimenti e gli atti di assenso necessari. Il sistema informatico regionale SUAPE è realizzato in maniera tale da costruire la pratica attorno all'obiettivo finale dell'imprenditore individuando a ritroso tutti i titoli abilitativi necessari, così ad esempio nella fase di inserimento della pratica da parte del privato, una volta individuato quello che è l'obiettivo, nel nostro caso ad esempio l'avvio di un'attività di commercio al dettaglio di esercizio di vicinato, proseguendo il sistema pone tutta una serie di domande che servono proprio per individuare quelli che sono tutti i titoli abilitativi connessi all'intervento che devono essere quindi associati alla pratica, per questo pone tutta una serie di domande sul controllo di prevenzione incendi, sulle tipologie di prodotti che vengono posti in vendita, quindi alimentari, farmaci da banco, fitosanitari, bombole di GPL, mangimi preziosi. A seconda quindi delle risposte che il privato fornisce a queste domande il sistema è in grado di associare ulteriori moduli a cui corrispondono altrettanti endoprocedimenti ed enti che devono essere coinvolti. A corollario di tale principio la legge regionale 24 del 2016 obbliga ad acquisire contestualmente tutti i titoli abilitativi necessari per la realizzazione di un intervento e vieta di frazionare artificiosamente il procedimento unico per acquisire solo una parte dei titoli che sono necessari per realizzare il medesimo intervento. E quindi una pratica che non comprenda tutti i titoli abilitativi necessari per realizzare una data iniziativa è di per sé irricevibile. Un altro ambizioso obiettivo della legge regionale 24 del 2016 è l'unificazione dell'iter amministrativo. Noi abbiamo una serie di norme di settore che disciplinano singoli titoli abilitativi e le procedure per l'acquisizione degli stessi, ognuno dei quali prevede tempistiche, modalità e tipologie procedurali distinte. Nell'ambito del procedimento unico tutto questo viene portato a sistema e ricondotto a unità, quindi non si applicano all'interno di un procedimento unico le disposizioni di natura procedurale contenute nelle norme di settore comunque denominate che siano diformi rispetto alla disciplina del procedimento unico. Tutti i titoli abilitativi vengono conseguiti attraverso l'iter che è delineato dalla legge regionale 24 del 2016. Tutti i soggetti coinvolti nel procedimento unico svolgono le proprie verifiche contemporaneamente, si esprimono contemporaneamente perché concorrono al conseguimento di un titolo abilitativo unico attraverso un unico iter. Venendo alla presentazione e protocollazione della pratica, la normativa regionale prevede che la pratica sia sempre presentata tramite il sistema informatico regionale su APE, a cui aderisce il 100% dei comuni del territorio regionale sardo. solo in caso di urgenza e indisponibilità temporanea del sistema informatico su APE la pratica può essere inviata via PEC, fermo restando il fatto che la stessa deve essere regolarizzata attraverso il caricamento sul portale regionale su APE non appena lo stesso ritorni disponibile. La legge prevede che la pratica presentata al suo APE con tutti i suoi documenti allegati sono contrassegnati da un codice univoco che è appunto il codice pratica che viene assegnato in automatico dal sistema e ogni pratica può essere registrata una sola volta sul protocollo di ciascuno degli enti coinvolti con l'indicazione del codice univoco. Questo significa che non è necessario protocollare tutte le comunicazioni che intercorrono tra l'interessato, il suo APE e gli enti terzi coinvolti nel procedimento che come sappiamo possono essere anche molto numerose in quanto è sufficiente protocollare una volta la pratica e eventualmente protocollare i provvedimenti conclusivi della pratica stessa mentre tutte le comunicazioni interlocutorie sono tracciate e conservate a norma dal sistema informatico regionale su APE. Per la presentazione della pratica è necessario oltre all'accesso al sistema informatico regionale su APE che avviene normalmente attraverso SPID o carta nazionale dei servizi anche una firma digitale. I privati che fossero sprovvisti di questi strumenti possono conferire procura speciale ad un altro soggetto per firmare digitalmente il nome per conto proprio e per trasmettere la pratica al suo APE attraverso il sistema informatico. La procura è valida per una sola pratica e può essere revocata in ogni momento. Per la presentazione della pratica su APE deve essere utilizzata l'apposita modulistica regionale. Non si può richiedere la presentazione di una modulistica ulteriore rispetto a quella regionale e non si possono chiedere documenti allegati diversi e ulteriori da quelli indicati in essa. A meno che non si tratti di documenti ulteriori previsti da regolamenti locali di cui è stata data pubblicità sul sito istituzionale ai sensi dell'articolo 2,2 del decreto legislativo 126 del 2016. Possono essere richiesti moduli ulteriori rispetto alla modulistica regionale su APE in caso di titoli abilitativi per i quali non esiste ancora una modulistica regionale specifica. Per concludere questa video lezione ricordiamo che il sistema informatico su APE, così come previsto dalle direttive regionali, dà la possibilità all'interessato in qualsiasi momento dell'iter amministrativo di ritirare e annullare una pratica precedentemente presentata, rinunciando in questo modo definitivamente a tutti gli effetti del titolo abilitativo eventualmente conseguito o richiesto per il tramite della pratica stessa. Se l'intervento non è stato ancora avviato il suo APE manda semplicemente la comunicazione a tutti gli enti coinvolti nel procedimento senza ulteriori formalità, se invece l'intervento e l'attività sono stati già avviati è necessario attivare le eventuali ulteriori procedure previste dalle norme vigenti. Quando il suo APE riceve una comunicazione di annullamento della pratica, accedendo al dettaglio della pratica dalla scrivania nella sezione comunicazioni trova la comunicazione di annullamento, può scaricare e visualizzare l'allegato F49 dove viene precisata la motivazione dell'annullamento e se l'intervento è stato avviato oppure no ed è sufficiente che cliccando su azioni, selezioni inoltre, selezioni la classe di comunicazione annullamento della pratica e notifichi l'annullamento a tutti gli enti conendo di verifica connessi alla pratica stessa. Ovviamente questo se la pratica è già stata trasmessa. Quindi cliccando su conferma e quindi su invia, il suo APE invia la notifica di annullamento della pratica a tutti gli enti coinvolti, nessun altro avventimento è dovuto.